...e questo crea spazio tra gli organi, la respirazione che viene utilizzata nel yoga utilizzando anche determinati esercizi crea maggiore ossigenazione agli organi e che avendo più ossigeno e spazio funzionano in modo migliore. La concentrazione che si utilizza nel seguire le ASA sta a staccare la mente dalle situazioni e questo ci permette di affrontare meglio lo stress nella vita quotidiana del mondo occidentale una disciplina orientale nata circa 2000 anni fa.